E Alessia Galanti, l'atleta licatese che conquista l'argento nella specialità K1 Ring e l'oro nella categoria Kick Light, battendo ad Alcama una nota avversaria già istruttrice. Successo tutto al femminile per il team Cobra della Bodyging Lab di Licata di Giuseppe Incorvaia, che supera così la prima fase eliminatoria a gironi della Maratona Italiana Targata WTKA, rappresentata dal Presidente Federale Cesare Belluardo. La manifestazione terminerà con le finalissime che si disputeranno nella città di Napoli e avranno luogo nel prossimo aprile. Inizialmente il trio licatese, allenato dall'istruttore federale Ignazio Callea, che avrebbe dovuto prendere parte alla prima fase eliminatoria a gironi nelle rispettive specialità, era formato dai giovani Alessia Galanti per la categoria del Full Contact Ring, Vincenzo Bonvissuto della Kick Light Tatami e Paolo Fama nella specialità del Light Contact Tatami. Ma il Bonvissuto è stato bloccato da infortunio, mentre Fama da stati febbrili. L'atleta Alessia Galanti ha saputo portare alto per il nome del team Cobra in maniera lodevole, cumulando nelle rispettive gare ben 16 punti, utili per il passaggio alla fase successiva, che si svolgerà l'8 marzo nella città di Messina. Si tratta di uno dei tanti impegni dei giovani atleti licatesi che farà da bagaglio per il prossimo incontro, sempre nel pieno rispetto dell'avversario.